La prima, poi la fonte è Rete Fare, per cui Football Against Resses in Europe, rispetto alla FIFA, mi risulta che tra marzo ed aprile la FIFA abbia fatto proprio una piccola delibera sul minori non accompagnati che potrebbero, e sarebbe il quarto caso, per questioni di carattere umanitario essere tesserati. E penso che dovrebbero recepirlo anche le varie federazioni. C'è questo passo in avanti, ed è anche, al di là di tutte le contraddizioni della FIFA che sottoscrivo, però sarebbe un passo in avanti. L'altra cosa che a me forse è indignato di più, su Tavecchio, non è tanto quella scivolata sulle banane che già di per sé ognuno la prenda come la vuole prendere, però è il fatto che, come prima mossa, appena eletto, ha detto, beh, chiaro, adesso metto un dipartimento sulle discriminazioni, lo do in mano a una nera, buona, bella, famosa e anche un po' rampante perché serviva un posto. L'ha dato in mano a Fiona May, che io ho incontrato tre o quattro volte nel giro degli ultimi due o tre anni. La prima volta mi ha detto, ah, com'è difficile, devo lavorare, devo studiare. La seconda volta mi ha detto, com'è difficile, sto studiando e sto lavorando. La terza volta mi ha detto, ho capito che per combattere il razzismo serve l'educazione, perché io a mia figlia gli ho insegnato i valori, l'educazione e il fair play. Questo è il grande contributo che ha dato, in questo mandato, Fiona May come responsabile del Dipartimento sulle discriminazioni. E io su questo invece dei forti dubbi ce l'ho, anche su... Si lavorerà, ma forse non sempre nella direzione giusta o con le persone giuste, nulla togliendo a Fiona May, forse in altre cose è molto più preparata sulle discriminazioni. Devo dire che proprio non l'ho vista e continuo a non vederla come persona capace e competente. Arrivo sui mondiali. I mondiali, sì, sono di per sé, sono un modello alternativo, un laboratorio interculturale attraverso lo sport. Tengono botta, per cui siamo alle ventunesime edizioni, i numeri sono come quelli dell'anno scorso, più o meno, per cui si viaggia tra le 170-180 squadre di calcio a sette, rigorosamente senza arbitri, così evitiamo la lobby degli arbitri. Cioè, sì, c'è qualcuno che segna il tempo di per sé, ma non c'è l'arbitro quello che dà la sanzione, per cui le squadre in parte si autoregolamentano nelle loro parti, molte delle squadre sono miste. Quest'anno abbiamo proprio focalizzato l'attenzione su un progetto che l'abbiamo chiamato Goal, portato avanti da una delle squadre partecipanti mondiali, che sono le Brigate della Pace, che hanno portato, hanno fatto un progetto internazionale per cui, per superare proprio le tematiche di genere, per farle diventare un unico genere, per cui non ci sarà più il... Noi abbiamo sempre fatto un torneo misto, maschi, femmine e anche squadre femminili e squadre maschili che giocavano insieme, però abbiamo anche sempre dedicato su... perché ce l'hanno chiesto, insomma, proprio i gruppi femminili, di fare anche un torneo femminile all'interno. Da quest'anno il torneo femminile non c'è più, perché quest'anno avremo 14-15 squadre femminili che arrivano un po' da tutta Europa, dalla Turchia all'Ucraina alla Serbia e così via. Questa è una delle novità dei mondiali. Forse l'altra novità, ma finisco là, perché molti di voi conoscono già i mondiali, per cui non racconto mai, è che quest'anno avremo anche durante la premiazione come ospite, e mi sembra doveroso perché l'avevamo anche provato a coinvolgere alcuni anni fa, ma non era potuta venire, Ilaria Cucchi. Per cui credo che... Grazie.